Abbiamo i tortellini in brodo che è un classico, chiaramente di tacchina il brodo, c'è l'arrosto misto, quindi dove normalmente viene messo agnello, coniglio e non so cos'altro aggiungeranno, le ferture gratinate e il palettone, cioè il palettone di Lodiaco. Anche l'ospedale di Urbino si prepara a festeggiare il Natale. Oltre a uno speciale menù per il pranzo del 25, con qualche strappa alla regola per quanto riguarda grassi e zuccheri, corridoi e sale di attesa sono stati addobbati con alberi decorazioni. In molti reparti è stato poi allestito un presepio, un modo per far respirare l'atmosfera delle feste anche a chi quest'anno non potrà passarla in famiglia. E per la sera della vigilia c'è un altro tradizionale appuntamento. Il concerto della parrocchia dell'Annunziata, che lo ha fatto già un'altra volta o un paio di volte, quindi ha piacere di venire qui in ospedale, soprattutto per i pazienti che rimangono qui perché hanno le malattie. E anche al bar si respira un po' di atmosfera natalizia.